Vi ricordo subito che guarderemo la puntata di domani insieme in live sul canale Viola, dunque mi raccomando seguite il link in descrizione perché la guarderemo tutti insieme e la commenteremo. Ciao a tutti ragazzi, io sono Aviglio e benvenuti in questo nuovo brevissimo video qui su Pokémon Next, come sempre vi chiedo un supporto lasciando un mi piace, commentando, iscrivendovi al canale e se vi va potete anche seguirmi sul mio profilo personale di Instagram, ma andiamo subito al sodo perché se avete notato negli scorsi giorni ho dovuto eliminare il video sul poster lincato di Serena perché è stato confermato reale, dato che la pagina Twitter della rivista dal quale era trapelata già stava buttando giù i contenuti, ma negli ultimi minuti sono state finalmente rese pubbliche le foto della rivista in questione e nonostante il vecchio poster aveva dei dettagli fatti male è uscito il poster completo aggiornato e sistemato con anche degli screenshot dalla puntata, che andrà in onda appunto domani, confermano il ritorno ufficiale dopo tantissimi anni di Serena nell'anime Pokémon, confermando di fatto il nuovo design, l'assenza del fiocco blu di Ash e quant'altro. Non ci sono ovviamente per ora ulteriori dettagli, questo è stato veramente un brevissimo video, vi aspetto domani e ovviamente anche con l'insintesi sul canale di Pokémon Next, qui da video per oggi è tutto, vi aspetto nei commenti. Ciao allenatori!